Io volevo soltanto dire un grazie grande, sappiamo che non siete professionisti, però in modo come ci avete offerto questo spettacolo è stato veramente fatto in modo molto professionale, è vero, io oggi, questa sera ho un motivo in più per essere orgoglioso, esoterato e vissuto a questo intervento. So pure che i cento metri non si vincuono negli ultimi nove secondi della problematica, si preparano con giorni, mezzi e anni di duro lavoro. Ho saputo che questo spettacolo, che è durato un paio d'ore e non ci siamo assolutamente annoiati, è stato preparato a lungo. Io non è che ho tante parole, vi dico semplicemente a nome della comunità, un grande grazie, che Dio vi benedica e vi permetta di portare sempre con lo stesso calore, con la stessa gioia che è dirombente, sono pure tutti sull'altra. Questo messaggio di speranza, di gioia, che fa le basti per tutti e non soltanto per uno, ma che sia il mondo dei giovani, a ricordare a noi che siamo un po' più avanti in età, che se si guarda un po' più in alto ci si muove meglio nell'orizzontale. Grazie. 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 Grazie.